benvenuti a un benvenuto a tutti da meteo groane giornata fredda oggi anche se buona parte della giornata è passata con il sole andiamo a vedere subito i dati registrati delle nostre stazioni guardate le minime che sono ancora in corso stiamo al 14 al 13 di febbraio meno 2 a bollate meno 1 2 cesate meno 42 a ceriano raggetto le massime 3.1 a bollate 24 a cesate 21 e ceriano avete visto il crollo soprattutto sulle massime come è stato veramente forte domani crolleranno anche le temperature minime perché il cielo mantenendosi sereno con l'aria molto fredda e le temperature andranno giù parecchio vedete la perturbazione dal satellite quella che ci ha interessato con qualche fiocco di neve ieri sera e anche questa mattina è così allontanata verso le regioni centro medidonale portato in maltempo lì e nevicate a quote molto basse le altre perturbazioni passano a livelli un alti perché dalla spagna al portogallo spinge un corpo di alta pressione e l'aria fredda continua a permanere comunque sulla sulla nostra regione andiamo guardare appunto la distribuzione delle temperature del giorno 14 guardate come si è raffreddata tutte le alpe la pianura padana e parte del centro italia vedete su milano sulla nostra zona stiamo già meno 1-2 gradi e lo stesso guardate in tutta l'europa centro settentrionale quella orientale queste proprie macchie addirittura viola indicano proprio temperature veramente molto basse le precipitazioni come vedete sono relegate ormai al sud italia e la stanno lasciando il sud e sono dirette ormai tra alvania e grecia ecco la modello di reading che ci aiuta a capire il movimento delle masse d'aria quindi fare una previsione come vedete salvato 13 ecco il corpo di aria fredda che sta per scendere su tutta l'italia e naturalmente le precipitazioni al sud per questo minimo che sta a nord della sicilia vedete che poi continua l'aria fredda anche per la giornata di domenica e lo stesso ancora nella giornata di voletì quando però già si vede fiorare un promotorio di alta pressione che prenderà un po corpo il giorno 16 ma che poi cederà il passo ancora qualche sbuffo di aria fredda per poi riprendere di nuovo il passo vedete però questo farà una settimana e lo confermeremo appunto per alcuni giorni lo vedremo poi se quest'alta pressione diventerà e farà da farà da padrone farà una settimana intanto vediamo la carta al suono prevista per il 14 di febbraio vedete ecco l'altra pressione sulla spagna sul portogallo e si dirige verso la francia anche verso le nostre regioni se vogliamo e ma però fluisce aria fredda l'aria fredda che abbiamo visto proveniente dalla russia quest'altra perturbazione che vi sto indicando con la freccia però è ostacolata dal campo di alta pressione e quindi sfiderà verso nord est previsioni per i prossimi tre giorni la giornata di domenica 14 una bella giornata soleggiata ma molto fredda meno 5 la temperatura minima più 5 la temperatura massima attenzione al ghiaccio matutino forti gelate lo stesso per quanto riguarda lunedì 15 una bella giornata qualche nuvoletta solo nel pomeriggio meno 5 la minima più 6 la massima attenzione anche qui alle forti gelate e al ghiaccio martedì 16 stessa fotocopia di lunedì bella giornata ma le temperature cominciano ad alzarsi meno 2 la minima più 9 la massima comunque sempre delle gelate matutine bene vi ringrazio vi auguro una serena domenica 14 di febbraio ci risenta il bollettino di domani buona giornata a tutti